buongiorno a tutti allora si sono disputate altre due partite degli ottavi di finale di champions league siamo a 6 stasera c'era villareal juventus e celsi lil e devo dire tutto come previsto in sede di pronostico ho detto villareal juventus mi arrischio lì sfisso e vi avevo anche accennato per me finisce 1 a 1 2 a 1 date a vedere il video come farebbe bonolis no fortuna ma anche un minimo di intuito eccetera il celsi batte il lil di misura di misura un gol per tempo e si chiude il discorso 2 a 0 credo che il lil difficilmente al ritorno riesce a fare 3 a 1 4 a 2 2 a 0 contro questo celsi che mentre vedevo lì la partita del celsi mi è venuta in mente una parola che è perfetta per il celsi di tuchel essenziale loro fanno l'essenziale sono essenziali difesa tranquilla sanno che il gollettino lo trovano giochicchiano decentemente senza essere fenomeni il loro lo fanno primo non prenderle tanto il gol lo faccio lo stesso e un po di spettacolo comunque lo danno ma senza esagerare essenziali l'essenziale come cantava anche bengoni se non sbaglio viceversa la juve passa in vantaggio vlaovic si presenta buongiorno sono vlaovic gioco in champions e voglio segnare subito poi sparisce perché dopo non ha fatto più una beata giù forse ha fatto un tiretto che rulli il portiere del villareal gli ha bloccato un po così ma gliela ha bloccata poi per il resto non è che ho visto chissà che cosa ho visto una juve che si è ha fatto il solito gioco corto buso si gioca tutti in difesa si tiene il risultato è un villareal che faceva girare la palla faceva girare la palla fino alla fine ha trovato il pertugio perché si sono addormentati parejo parejo ha pareggiato parejo il pareggio ha pareggiato perché praticamente erano tutti sembravano alla canzocina tutti a destra tutti a sinistra e in mezzo chi ci sta ci sta pareco che pareggia perché l'hanno fatto proprio entrare ha avuto un'autostrada centrale nell'area di rigore questo qua che erano tutti o da una parte o dall'altra in mezzo c'era l'autostrada lui si è inserito il gioco al compagno di squadra l'ha visto gli ha passato un pallone al bacio lui l'ha preso anche così non è che ha tirato cioè non è che è arrivato per una bella l'ha toccato appena appena c'è scesne rimasto lì così come un curucu perché forse si aspettava che glielo incrociasse o che cosa invece l'ha solo toccato appena appena e il pallone l'embe l'embe è andato in porta uno a uno villareale ha proseguito ha proseguito ha proseguito in più si è fatto male anche bella storta che ha preso mccandy è perché praticamente il giocatore del villareale entrato in scivolata ha preso la palla poi logicamente prendi la palla prendi anche il giocatore che ha cercato un attimino di saltarlo e nel cadere adesso è la mano quindi non è facile praticamente aveva al piede così ha toccato terra sul non benissimo gli sia leggermente girato e non è bello spero sia una una quando prendi la storta no che tocchi male inciampi o che cosa ti prende ti si gira un po il piede ma non in maniera esagerata spero sia una storta per il povero meccaniche è uscito a braccia col piedino alzato sembrava uno dei tanti decani del dottor paul quando arrivano con la zampa rotta che hanno la zampina che è così pezzoloni e lui controlla no non è niente ha solo preso una butta botta adesso gli diamo un po gli antidolorifici e l'aspirina e va via tutto speriamo per il povero meccaniche ma comunque nella panchina della juve c'era arthur c'era zaccaria ne ha di giocatore attenzione alla juve il campionato non al milan attenzione alla juve che quatta quatta si avvicina e tra un mese se noi non siamo abbastanza a distanza al 3 di aprile sappiamo benissimo come va a finire come al solito quadrado va addosso a uno volontariamente fischiano il rigore è successo l'anno scorso figurati se quest'anno la juventus dovesse avvicinarsi ancora di più cosa può succedere se invece la juventus dovesse essere a distanza avrebbe e avesse già in tasca un terzo quarto posto allora magari l'arbitraggio umano sarà preciso e non staranno troppo a guardare il risultato vedremo manca un mese abbondante comunque uno a uno villareal juve è un buon pareggio però attenzione a questo villareal perché vi ricordo che il villareal contro l'atalanta del girone andò a bergamo prese le pallonate primo tempo l'atalanta poteva essere 4 a 0 primo tempo termina 1 a 0 per il villareal nella ripresa l'atalanta la poteva vincere alla fine è finita 2 a 1 per il villareal se non ricordo male ma l'atalanta merita di fargli 6 7 gol quindi attenzione perché questo villareale sordione è malefico sta lì schiscio sembra che deva prendere una marea di gol ma non li prende alla prima occasione che a tattica stiga e siccome che la regola del gol in trasferta non è più valida la juventus non può giocare a torino per lo 0 a 0 perché anche se finisse 0 a 0 si va ai supplementari se resta a 0 a 0 si va ai calci di rigore ormai la regolina lì ha fatto 1 a 1 in trasferta mi basta lo 0 a 0 per passare il turno non funziona più e quindi attenzione a questo villareal ripeto la juve favorita se gioca come ha giocato l'atalanta contro di loro sfruttando però le occasioni non sbagliandole al villareal gliene rifila due o tre ma se non le sfrutta attenzione a questo villareal perché nella ripresa li ha messi un po' sotto e ha trovato il pareggio ha rischiato anche di fare l'altro gol ha preso anche una traversa nel primo tempo quelli del villareal con Czesli che era lì che era dall'altra parte e la palla sul palo traversa lì qualcosa di simile Chelsea-Lille ve l'ho detto partita scontata credo che sì magari il Lille potrebbe vincere 2 a 1 così per il Chelsea magari segna pronti via segna e poi lascia sforgare il Lille gli regala la vittoria giusto che così prendono il bonus partita credo che il Chelsea abbia la qualificazione ai quarti già del sacoccione Avers nel primo tempo Pulisic ben servito da cantene la ripresa che ha fatto vedere ai giocatori come si fa lo scavettino il tiro all'angolo sull'uscita solita del portiere Juppidu che ormai escono come cicciolina escono a gambe aperte a braccia larghe e però prendono il golo sotto le gambe o se no se allargano solo le gambe ma non allargano le braccia gli fanno il tiro verso l'angolino opposto a mezza altezza che non lo prendi più perché le gambe sono a terra invece i nostri bei tiri raso terra addosso al portiere che ti esce incontro e tu non segni mai comunque Villarreal Juve 1 a 1 Chelsea Lille 2 a 0 Chelsea che ipoteca la qualificazione Juventus che se ne deve ancora giocare perché come vi dicevo prima non c'è più la regola perché se ci fosse stata la regola del gol in trasferta che vale doppio vi dicevo la Juve al 60% di passare il turno ma con l'1 a 1 al Villarreal è alla pari 50-50 la Juve deve vincere il Villarreal deve vincere il pareggio con qualsiasi risultato manda ai supplementari e vedremo vedremo cosa succederà certo pronti via la Juve se dovesse segnale subito si mette già nella posizione di tranquillità tra virgolette anche perché comunque avendo il pubblico finalmente al suo fianco in uno stadio come l'Allianz Arena che è bello con i tifosi belli ravvicinati al campo dovrebbero riuscire a fare la differenza però al Villarreal fate attenzione perché anche con l'Atalanta se doveva perdere con un essere seppellito di reti e invece all'andata pareggiò al ritorno andò a vincere detto questo buon viatico per la Juve una buona partita ricordiamoci che il Villarreal ha vinto l'anno scorso l'Europa League quindi non è l'ultimo degli sfigatori è sempre una squadra da prendere con le molle anche perché ha eliminato l'Atalanta che sta facendo comunque un buon campionato detto questo ragazzoli ditemi voi se vi piacciono questi risultati vi fanno libidine se siete convinti che la Juve è passeggiata di salute al ritorno se anche voi mettete le manine avanti e dite vantaggiata leggermente perché gioca in casa ma attenzione perché non c'è nulla di scontato ecco viceversa Chelsea Lille si sapeva già prima ancora prima che giocassero come sarebbe andata la situation detto questo ci vediamo alla prossima vedremo stasera cosa succederà c'è un Benfica Ajax con un Haller che secondo me dovrebbe pucciare il biscottino e un Atletico Madrid a Manchester United dà aiuto aiuto arriva il lupo che finirà 1-0 finirà 2-1 faranno un pirotecnico 3-3 faranno un ridicolo 0-0 non ho c'è una percezione ma spero di sbagliarmi mentre invece Benfica Ajax non me ne vogliano i tifosi del Benfica ma hanno una gran paura che finisca come sport in Lisbona Manchester City e non dico altro detto questo ci vediamo alla prossima ciao